Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Spunta la verità su Alex Belli che nella casa ha formato il triangolo amoroso con la moglie Della Duran e l'influencer Soleil Sorge Un'ex geffina spiffera tutto, è gay. Alex Belli.E' giunta al termine la sesta edizione del Grande Fratello Vip e Alex Belli continua ad essere presente sul piccolo schermo Nella casa si è fatto conoscere per l'amore libero che condivide con la moglie Della Duran Ma anche per il triangolo amoroso che ha formato con Soleil Sorge I tre geffini infazzi sono stati i veri protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip L'attore aveva instaurato nella casa un rapporto di amicizia speciale e di complicità con Sole Inizialmente la moglie era disturbata, ma successivamente ha capito il rapporto che c'era tra e due Le due donne si sono potute anche conoscere meglio dopo che Della ha fatto il suo ingresso nella casa Ma questa volta arrivano altre accuse per Alex, l'attore è stato accusato di non essere eterosessuale ma di essere gay Non è mancata ad arrivare la risposta di Alex, rivolta a chi le ha mosso l'accusa Alex Belli è gay? Ecco la sua verità.Ad accusare Alex Belli di essere gay è stata Deyem Mello, anche lei ex geffina ma non della stessa edizione dell'attore Alex è stato ospita la Pupa e il secchione con Barbara D'Urso, e l'amello che conduce il format Pupa Party ha commentato così l'attore Ma nessuno l'ha ancora capito? Dico solo questo e poi sto zitta Ho un gossip, Alex Belli ci gioca, ma gli piacciono anche gli uomini È bisessuale. Però dovrebbe ammetterlo e non stare lì a giocare con le donne Ho le prove, i miei occhi hanno visto. Dieci anni fa sono stata a casa su e ho visto Punto Deyem Mello. Deyem Mello non stima molto Alex essendo molto amica di Soleil sorge e ha continuato così su di lui, non mi piace, gioca con le donne Si è confusa l'idea di show con la sincerità dei sentimenti Alex Belli ha subito risposto all'amello tramite il suo prefilo Twitter scrivendo, sapessi come non ti sopporto io Sei una persona falsa. Quando mi incontri fai la falsa, mi sorridi per depistare Sei un'ipocrita. Continua il botta e risposta tra e due e la modella risponde in portoghese così, sconvolta dalle persone che per la fama nascondono la verità Vivono in un mondo di bugie. Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video